che sia stato giusto cominciare a stimolare l'Europa perché prendesse una posizione unanime, devono essere assunte e sono... Da questo punto di vista noi abbiamo deciso di fare una verifica, una sospensione di un programma che in realtà dura dal 1998, quindi stiamo parlando di programmi... Siediamo conferma direttamente al nostro economista De Nicola, stanno aumentando gli investimenti dall'estero? Potrebbe essere una strada di salvezza? Sì, sì, gli investimenti dall'estero. Della federazione del calcio, che mi sento la Confindustria, nessuno che fa altre tecnologie, eccetera, ce nemmo più un cazzo! E' come se noi gli avessi detto perché non fai la beneficenza, no, io voglio... Ed è una stima molto sottostimata ovviamente, quindi diciamo che 10 miliardi... ...gira, alle sue spalle c'è una donata sediziosa di twittaroli, anche se loro... Grazie a tutti!